www.marcoparet.com Negativo, non si affermano, il veicolo è ancora in movimento. Rilevo un segnale di agganciamento IAM, cerca di ritarlo. Rilevo un segnale, io non credo che ci causerà altri problemi. Il corretto è soltanto le fisce che date, chiedo supporto. Il corretto è soltanto, il corretto è soltanto. Un gancho diretto verso Sandef Drive L'affetto ha ricevuto il suo ultimo avertimento. 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 L'affetto ha ricevuto il suo ultimo avertimento.